ciao luca car tablet è arrivato questa spedizione va direttamente in svizzera adesso ti faccio il video dimostrativo del prodotto andiamo a gestire usb audio chi avrà i contenuti e poi passiamo alla usb video qui sono tutti i connettori potrai gestire anche i contenuti ovviamente adesso c'è solo un video nella usb adesso c'è la pellicola protettiva che tu una volta eseguita l'installazione la toglierai via voce bluetooth streaming musicale è un android 10 4 gb di ram rom 64 gb abbiamo anche il dsp e poi avrai tutto il mondo android in questo caso google poi attiviamo maps qui stai su maps posizione real time qui stai su youtube potrai gestire anche le quattro telecamere sia in modalità automatico o manuale se la macchina è dotata se la nissan cascai 360 io ti ringrazio per l'attesa organizziamo e ti inviro la tracciabilità ovviamente i trasporti sono tutti rallentati speriamo che sicuramente entro il 27 28 passeranno i corrieri ti saluto e grazie io ti ringrazio per l'attesa